Eccoci qua ragazzi con FIFA 18 carriera allenatore Benevento Inter e la partita di sabato 30 settembre Andiamo a... Siamo tra l'altro primi con 14 punti a pari con Juve e Sampdoria Possiamo mettere la divisa fuori casa Quasi da militare Benevento Inter Allora come titolare qua che mettiamo? Cancelo è ormai confermato il titolare 4-4-2 classico Lascerei così direi che non so se mettere Bologgi piuttosto che Vecino Ma potremmo mettere... Non c'è anche così dai Ok cominciamo subito Quindi... Adesso penso che a breve ci faranno vedere la classifica Qua punizioni bronzo Come si fa qua? Muzzo... Traversa... Vabbè andiamo avanti Vediamo un po' Benevento... Guarda ha aggiunto già lo stadio Stadio classico Vabbè... Incomodante Stadio di Stefano Nava Ecco qua L'arbitro prende il pallone Ecco qua la classifica 14 punti a pari con Juve e Sampdoria Lazio quarta a 11 Insomma siamo tutti lì appagliate Guarda che bella... Bella tifoseria Bella curva Migliore difesa Inter migliore difesa Solo tre gol subiti Incredibile Le ultime parole famose Incredibile Incredibile Dai procediamo Quando hanno non ci costo mai a lucido Ma è un classico Dai Via Benevento Inter E' la settima giornata Cominciamo Attenzione Uuuuh Vai Persic Non è fallo Me musciai Occhio Occhio Spettacolo Dai Eder 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 Per i cardi da solo Ancora Eder In avanti Ma proviamo A entrare in aria Attenzione Uuuuh In mezzo i cardi Ribattuto Ancora ribattuto Fuori gioco No? Sì Perdice Fuori gioco Questa è la mia controfigura Il mio alter ego Peccato che qua era Nettissimo Nettissimo Fuori gioco Vabbè Belek Ex Inter Per D'Alessandro Attenzione Per Oh Madonna Mi è corso D'Alessandro Ui che è Cataldi Nooo Tiro Andanovic Blocca tranquillo Skrinian Ripartiamo Tranquillamente Che gol Può arrivare Perisic Nooo Sbagliato 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 Dalbert Qua titolare Grande Skrinian Anticipa Dalbert Perisic Vai Icardi 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 Uuuu Eder Fuori gioco Costa Due fuori gioco Attenzione Eder 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 Icardi Vediamo un po' se riusciamo a costruire qualcosa Ancora Eder Sempre Icardi Tiro Parata Eder Non si fa trovare E questa è da vincere ragazzi Non facciamo scherzi Nooo Parca Calazzo Tasa Bravo Agliardini Dai su C'è Eder Che sta partendo Niente da fare Tranquillo Andano Tranquillo Vendicinquesimo E ancora 0 a 0 Sì Eder Non puoi sbagliare Non ci credo Alla fine ha sbagliato Fidipao Che cacchio si fa E' un gol fatto Era questo Vabbè Devo aggiustare un po' la mira Mi ammusciai Mi ammusciai Vai Candreva Ancora Eder Dai 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 Icardi 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 Per Candreva Non sbaglia 1 a 0 Perfetto Perfetto A meno Candreva non ha sbagliato Bella azione questa Icardi che vede Candreva Che parte in mezzo Precisione Bello sempre tasto 1 a 0 Candreva Candreva Sì Più meno 1 a 0 1 a 0 Intra Trentunesimo Candreva Meno male Meno male Perché Perisic Ancora anticipa Dai dai Voglio golle Ada Voglio golle Ada Ancora Perisic Tiro Che ciofeca Che ciofeca Ragazzi Barcavalero Peridic Eder Grande dribbling D'Eder Però Non serve a niente Perché è un shy Gli frega la palla Occhio Continuiamo a mantenere Una difesa Solida Bene Eder Uh C'ho la batteria C'ho la batteria Mi Eder Questa è un'altra opportunità Se sbagli No no Ma veramente Ma stiamo scherzando Com'è possibile Frustrazione sì Mi sbaglio due gol fatti Ci credo Dai Min Dai dai Pietra L'ho falciato Attenzione Borcavalero Ancora Peridic Uh sì Peridic Su sinistra Proviamo Corsare in mezzo Proviamo Meglio che non provavo Venuti di recupero Dai 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 Oh no 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 Non solo una zero Comunque Edder mi stai facendo penare fine primo tempo Eder porca miseria Eder porca miseria Lazio Sassuolo cosa succede qua capisce possiamo andare avanti Eder si mangia due gol ma per fortuna che andrea la sbloccata vediamo di chiuderla possibilmente questa partita perché se no intanto entra Lombardi e perde Alessandro per l'Ibenevento Balcavalero si 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 oh Eder mi è stufato no ha sbagliato ha sbagliato dovevo tirare più forte io non so più cosa fare con Eder cioè veramente sta facendo un po' girare i marumi Icardi dai mi hai ribattuto dai rigore 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 netto non faccio battere Eder mi ha sbagliato non ammonisce no niente che è questo vediamo un po' se c'è Raffallo si è la netto su Perisic boh madonna mia se no non ammonisci questo la molisana Icardi si appresta a tirare ha giocato qua c'è il mirino qua non so riesco a sbagliare il rigore troppo forte palo io sono veramente incredulo sono veramente incredulo una cosa incredibile ah se non vinco questa cioè Borca Valero mi ricordo il paio di Riccardi ragazzi palo faccio tirare Eder forse bestemmiamo di meno perplesso il mio alter ego dai sudami sta palla Candreva Gajardin dorme non si capisce perché cosa voleva fare del pinto no porca Valero Icardi Eder 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 Tensione Icardi ancora lui non può sbagliare e non sbaglia stavolta 2 a 0 che fatica ragazzi che fatica segnare oggi cambio vestito per Valero si va bene si si accettabile come cambio non potete sbagliare tirata di non si capisce come ma ha segnato non parlate quelli 2 a 0 esce del pinto entra Kisba per l'Inter invece entra Vessino che non ci assomiglia per niente al posto di Boca Valero che non ci assomiglia per niente anche lui scusate 63esimo dai facciamo il terzo e buonanotte al secchio Beretic Gaillardini Eder uh Kandreva eh proviamo a metterla in mezzo no metto qua vediamo Vessino 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 tiro dalla distanza portiere para Belek va a trovare pronto Kandreva ancora lui già fa più Kandreva settantesimo lo stesso palla a 50-50 ragazzi dal bet anticipo bravo scrimina teniamo palla tranquillamente tentando di fare il terzo gol possibilmente ESports offre Hellas Verona Benevento Big Match 15 ottobre Shipsa Shipsa non è Kipsa Kiz vabbè come cacchio si chiama occhio Vessino anticipa però deviato attenzione in passaggio uh uh via settantasettesimo Vessino ancora lui con lo stesso palla mi la perde eh ottantesimo quasi sto soffricchiando Dalbert ancora lui anticipa 600 secondi classici per Gigi Pardo Eder che ha sbagliato un mucchio di gol Perisic uh mi cardia ma nonna mia per tirare quanto ci ha messo ok ancora nostra fallo cambio Dalbert posizione Anton va bene entra a coda per Armenteros per il Benevento 84esimo da 85 ormai diciamo che siamo siamo arrivati alla fine Santon entra a posto di Dalbert Santon lui ci assomiglia caspita ci assomiglia possiamo andare avanti 85esimo 2 a 0 per l'Inter tentiamo di fare il terzo gol e non subirne uno Andanovic Andanovic con molta calma si fa trovare pronto Miranda Cancelo facciamo passare il tempo Candreva uh Candreva ancora per il triangolo dai cross in mezzo eh era difficile questo era molto 2 minuti di recupero dai che è finita è finita mi ammusciai attenzione Cataldi in avanti per nessuno finisce qui Inter 2 a 0 ma potevo fare molti più gol potevo fare molti più gol rivediamo i replay e adesso ho mangiato dei gol assurdi questo eh i cardi ma perché lo taglia palle posso andare avanti quindi 2 a 0 ci portiamo a 17 punti e vediamo il replay siamo ancora in tempo almeno un gol volevo rivederlo ed era che cosa ho mangiato ed era incredibile eh nasa a punta questo invece è il gol di Candreva che sblocca la partita possiamo andare avanti vediamo un po' sono curioso di vedere la classifica in questo momento la stessa solo guarda perché non c'è risultato non capisco vabbè classifica ah da aggiornare la Lazio ha vinto quindi attenzione l'ultimo notizio il giocatore del mese è Der ciao ragazzi ciao alla prossima all'ottava giornata ciao